Sono saliti al momento a 23 gli indagati per omicidio volontario e rista gravata nell'inchiesta milanese sugli scontri tra ultrassi interisti e napoletani del 26 dicembre che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli. L'ipotesi di omicidio volontario contestata a tutti e 23 gli identificati è un passaggio tecnico per svolgere tutti gli accertamenti. Nel frattempo sulla seconda auto bloccata Napoli sarebbero state riscontrate ammaccature da verificare se compatibili con l'investimento. Il numero degli indagati nell'inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e dai PM Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri e condotta dalla Digos è comunque destinato a salire anche perché le indagini per individuare tutti gli ultrassi che hanno preso parte alla rissa, oltre 100 tra interisti e ultrassi gemellati di Varese e Nizza e un'ottantina di napoletani nella quale è morto Belardinelli stanno andando avanti. Nelle prossime ore, da quanto si è saputo, gli inquirenti notificheranno informazioni di garanzia con le contestazioni di omicidio volontario e rissa gravata dalla morte a tutti gli indagati affinché con i loro legali, i loro consulenti, possano partecipare agli accertamenti anche irripetibili come l'autopsia sul cadavere dell'Ultra del Varese e le analisi scientifiche sulle vetture. La Volvo è già sequestrata e l'altra auto bloccata e che verrà sequestrata. L'ipotesi al momento è che Belardinelli sia stato prima investito da una macchina della carovana dei tifosi napoletani e poi un'altra auto gli sia passata sopra ma dato che allo Stato non ci sono certezze investigative sulla dinamica dell'investimento e che Dedè è arrivato in ospedale ancora vivo, gli inquirenti a garanzia hanno iscritto tutti i partecipanti agli scontri anche per omicidio. Tra i 23 indagati ci sono anche gli otto napoletani che erano sulle due macchine. Quella bloccata nelle scorse ore, tra l'altro, presenterebbe delle ammaccature ma è da accertare il fatto che siano riferibili ad un investimento. Gli investigatori infine stanno ancora lavorando per identificare gli ultras napoletani che avrebbero sollevato il corpo di Belardinelli dopo l'investimento alla fine degli scontri consegnandolo poi ai tifosi interisti. Questi ultimi che hanno preso il corpo per poi caricarlo su un'auto e portarlo in ospedale invece sono stati individuati. Lo stesso Marco Piovella, capocurva interista arrestato, ha messo a verbale di aver caricato il corpo su una macchina.